Ciao a tutti benvenuti a un nuovo appuntamento con il mio canale youtube appuntamento triste beffardo quello di stasera più che triste beffardo perché abbiamo preso questo gol al 93esimo in superiorità numerica con la partita in mano in controllo insomma un gol che non ci voleva e che non si doveva prendere premettiamo con il 2 a 2 la gara di ritorno pende a nostro favore ci basta pareggiare 0 0 1 1 per passare il turno ovviamente la differenza tecnica tra quel milan e questa stella rossa è abissale e quindi il milan deve passare questo turno anzi aveva il dovere di ipotecare già la qualificazione in questa gara d'andata perché ne aveva avuto la possibilità e è rimasto in vantaggio addirittura in vantaggio come detto anche numerico fino al 93esimo minuto inaccettabile il calo di tensione vistoso che abbiamo intuito negli ultimi minuti al 90esimo a milan sembrava che fosse finita la partita la stella rossa invece ci ha caduto fino alla fine li abbiamo fatti venire avanti gli abbiamo regalato quel calcio d'angolo e poi meite per la seconda volta in quattro giorni si dimentica bastoni a spezia che fa il gol del 2 a 0 che chiude la partita del milan si dimentica pavkov sul calcio d'angolo che in anticipo addirittura con la schiena colpisce questo pallone dalla traiettoria beffarda che regala il pareggio alla stella rossa devo dire la verità un pareggio forse meritato per la volontà per la volitività della squadra di stankovic sospinta anche da un migliaio di persone che non si sa come riuscite a introdursi al maracana di belgrado succedono sempre cose strane quando c'è il milan al belgrado ma non è certo per quello che abbiamo pareggiato perché milan per due volte ha avuto la possibilità di avere saldamente in mano la partita di gestirla addirittura anche di incrementare il vantaggio sarebbe stato molto importante per la gara di ritorno e non ce l'ha fatta davvero un grosso peccato e a livello psicologico sono molto preoccupato perché dopo la sconfitta ingiustificabile di spezia che ha consentito all'inter di passare avanti in classifica ci voleva una prova di carattere sarebbe stato importante una vittoria psicologicamente per ridare al milan quelle certezze delle quali si era nutrito per tutto l'anno e che sembra che si siano perse negli ultimi giorni nelle ultime ore purtroppo quando prendi un gol così al 93esimo per il morale per le certezze per la tua testa è una botta terribile e oltretutto vedere anche godere l'interista stankovic che voleva fare uno sgambetto al milan prima del derby a poche ore dal derby perché sono ravvicinatissimi i due impegni fa molto male fa molto male e speriamo che non sia male augurante verso il derby questa settimana tra spezia e stella rossa sta andando veramente molto molto male devo dire che questa volta mi schiero totalmente alla parte di pioli che ha scelto una formazione imbottita di seconde linee di seconde scelte o meglio di giocatori che non giocheranno il derby quindi ha fatto una scelta strategica per razionalizzare le energie della squadra in vista del derby che è molto ravvicinato secondo me doveva fare la stessa scelta in coppa italia contro l'inter che tanto poi sono stati eliminati lo stesso e invece non l'ha fatta però ha capito dall'errore dell'inter fatto con l'inter in coppa italia che invece sarebbe stato meglio schierare le seconde linee e ha fatto bene a farlo contro la stella rossa tra l'altro milan delle seconde linee che ha giocato secondo me un discreto primo tempo ha viso aperto ha rischiato qualcosa è stato donna ruma ancora una volta determinante in un paio di circostanze però ha colpito ha fatto male alla formazione di stankovic mi è piaciuto molto rebic che poi è uscito credo per risparmiarlo in vista del derby che rebic in un paio di occasioni si era reso pericoloso mi è piaciuto molto castiglieco che continuo per tutta la partita ha provocato l'autogol della stella rossa in occasione del primo gol del milan mi è piaciuto anche crunic che in quella posizione sicuramente si sente più a suo agio di trequartista rispetto a quando gioca nei due centrocampisti centrali e invece dobbiamo dire la verità non mi è piaciuto mario manzukic è vero che ha fatto 80 minuti questo è il dato importante per manzukic perché aveva bisogno di giocare una partita vera dall'inizio ha giocato 80 minuti e questo è importante per ritrovare la sua condizione però dobbiamo dire la verità dalla sua condizione lui è molto 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 lontano perché a bel grado davvero si è visto un semi fantasma i due centrocampisti centrali ben naser e meite secondo me sono stati i peggiori della partita ben naser si vede che non aveva ancora la gamba per coprire una così larga porzione di campo il milan gioca con un centrocampo a due c'è bisogno di avere due giocatori che coprano tantissimo ben naser non ha ancora la gamba di che si per intenderci o quella sua dei tempi migliori ha fatto fatica e poi purtroppo si è fatto male vedremo è un problema muscolare una ricaduta forse figlia dei problemi avuti più che una ricaduta figlia della lunga inattività di quest'ultimo periodo speriamo che non sia nulla di grave però per le prossime partite lo perdiamo meite ha giocato male il primo tempo si era ripreso nella ripresa è andato addirittura vicino al gol del 3 a 1 e poi la dormita sul calcio d'angolo finale secondo me fa sì che sia da eleggere come il peggiore in campo in difesa bene calulu secondo me sulla fascia destra abbiamo visto anche un buon te ornandez in ripresa non male la coppia di difensori centrali però è stato tutto il milan che si è addormentato malamente in questo finale di partita complici anche i cambi fatti da pioli da lotte entrato anche lui ancora un po sotto l'effetto spezia chi invece era entrato bene dando anche l'assist per a castieco per scusate te ornandez per il rigore del 2 a 1 è stato tonali che mi è sembrato meglio decisamente meglio di ben a serie sono contento che giocherà lui al fianco di che si dicevo però già in occasione del del rigore concesso alla stella rossa una disattenzione di romagnoli che con quel braccio va molto largo un arbitro che stasera non ci ha regalato niente ma certo il milan non ha pareggiato per colpa dell'arbitro quello che davvero è insopportabile e ingiustificabile soprattutto dopo una partita come quella contro lo spezia e quel calo di tensione nel finale contro una squadra in inferiorità numerica lì il milan era convinto di aver vinto la partita ma questa squadra deve capire che la partita inizia a primo minuto e finisce al 96esimo altrimenti si perdono punti si perdono occasioni e si prendono tanti rischi rimaniamo strafavoriti per il passaggio del turno contro una squadra che è poca cosa questa stella rossa però non è stato un gol diciamo non è stato un buon episodio questo gol al 93esimo sia per la gara di ritorno perché comunque ti costringe a fare la partita a ritorno a san siro invece di andare in campo tranquillo questo forse può essere anche un bene per far salire la tensione della squadra detto che pioli riproporrà ovviamente le seconde linee ma soprattutto a livello psicologico dopo la spezia prendere questo gol al 96esimo contro la stella rossa è davvero una brutta botta e dovrà essere molto bravo pioli molto bravo tutto l'ambiente a ridare al milan convinzione fiducia e unità in queste pochissime ore che ci separano dal derby davvero questo gol di pavkov al 96esimo al 93esimo non ci voleva proprio chissà se avrete avete scommesso live su questa partita io sinceramente non avrei mai scommesso su un pareggio della stella rossa soprattutto dopo che era rimasta in inferiorità numerica chi invece lo ha fatto ha scommesso ci ha preso purtroppo per il milan buon per lui ma se avete bisogno di consigli per le vostre scommesse per le vostre strategie di scommesse rivolgetevi sempre al nostro canale partner youtube ma anche il sito scommesse.commentierecensioni.com con dei nuovi video che ci sono sul canale youtube che si riferiscono alle scommesse sui tiri in porta secondo me molto interessanti tiri in porta che milan a belgrado ne ha fatti pochi anche se ne ha fatti più di quelli contro lo spezia che erano zero però ragazzi nel derby ci vuole tutto un altro milan ci vuole il miglior ibrahimovic e ci vuole una metamorfosi nel giro di due giorni perché la squadra vista contro lo spezia e quella che ha gestito così male il finale di belgrado non so voi ma a me preoccupa tantissimo in vista del derby ciao a tutti da cristiano a voi ti vuoi